Allora avete raggiunto un accordo, un congresso prima delle europee, così? Sì, sì. Oggi penso che sia una giornata positiva, eleggiamo Maurizio Martina segretario, è una decisione giusta secondo me, è anche un riconoscimento al lavoro e all'impegno faticoso che Martina ha riversato in questi mesi difficili e poi la decisione mi pare abbastanza condivisa è quella di tenere il congresso, di avviare subito la stagione congressuale, di completare questo percorso prima delle elezioni europee, in modo da presentarci a quell'appuntamento fondamentale con un partito in qualche maniera rimesso in piedi dopo la sconfitta peggiore della nostra storia, non solo quella recente. Martina però ha detto io non voglio fare il segretario yogurt con la data di scadenza impressa. Ma non è una segreteria yogurt con la data di scadenza, io credo che ascolterete la relazione di Martina, lo ascolteremo tutti, sarà la relazione di un dirigente politico consapevole che il passaggio che abbiamo davanti è delicatissimo, è in campo una destra che non abbiamo mai conosciuto con queste caratteristiche, questo profilo a livello europeo, c'è un nuovo nazionalismo aggressivo e una grande forza come il PD deve mettersi nella condizione di attrezzarsi al conflitto, allo scontro con questa destra e la garanzia è che Maurizio sia l'elemento che ci consente di arrivare ad un congresso in maniera ordinata, io spero anche con delle regole in parte cambiate. Si frisce il segretario premier? Sì, non soltanto, dal fatto di avere per esempio un albo degli elettori, che non sia possibile votare per il segretario del Partito Democratico l'ultima mattina passando per la strada versando due euro a Galzebo, insomma tanti aspetti che discuteremo, però credo che in questo senso Martina possa essere davvero il garante di un percorso ordinato in questo momento e anche di questo che abbiamo bisogno.